Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft Sono fuori perchè mi sono entrato ad entrare Aspetta che Riprendiamo da ma scusate Amigo 3 Una Due E tre Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft Ragazzi signori e signori Quindi adesso 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 andiamo avanti con la nostra serie Allora questo si può smeltare Sapete che non credo Però è un cibo La Hardened Che lo mangio Ok però Ci da tanto di quel Cibo Allora Torniamo a noi Oggi cosa facciamo? Ci manca un pezzo di quest Perchè A parte dobbiamo cremare che non abbiamo cremato il punto precedente O l'ho già fatto Allora Ci serve Dobbiamo andare a cercare della cobblestone Perchè Perchè Semplicemente Perchè dobbiamo andare A fare la gravel A fare la gravel Sapete che dobbiamo Dobbiamo siftare E con i sifting Nostra cavernozza Allora Innanzitutto Mi piglio sta gravel Perchè Ci serve Ci serve Quante ne abbiamo? Nove E infatti viene un'altra mesh Perfetto Però Manca un punto A parte il ferro Che lo pigliamo Che ci facciamo Del piccone Ok Magari Più avanti Anche la ramatura Eh si ragazzi In questo pacchetto Come ho già visto C'è la progressione Anche delle armature Quindi non puoi farti Non posso farmi Un'armatura di Non posso farmi Manca un'armatura in legno Per dire Per irvi Infatti Guarda Allora Torcia Andiamo per di qua Massi quanta cacchia Ne abbiamo Ok Non ce n'è più Allora Mi sembra che col martello Ci diano i crash E' vero? No No Quindi dobbiamo tornare su Allora Andiamo su Andiamo tutta Una cobblestone Possibile Inimmaginabile E andiamo a farci Un bel martello di ferro Eh si ragazzi Perché Così Andiamo a farci Allora Magari smettiamo le porte Che non ci servono Uno e due Quattordici Allora Quindi mi dai Mi dai Mi dai Mi dai La legna Che devo andare a farla Perché La stiamo Edaurendo In effetti Non è che ci siamo In termini di legna Allora Legna di qua Di cui mi fai Gli stick Ok E facciamo Con lo stick E due ferri Facciamo La Lummer di ferro Allora Così facciamo 1,2,3,4,5,6,7 Facciamo Facciamo Tac 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 Ok E mo Andiamo di sopra Ok Perché Semplicemente Perché Ok Quindi F4 Si è rotta Perché Perché Sono un pirlo Perché ha finito Martello E semplicemente Abbiamo finito Anche la fame Quindi Dobbiamo fare Un altro Altri due ferri Quindi Dammi il ferro Uno Uno ne basta Perché uno Ce l'abbiamo già Allora Con la grave L'ho fatta Quindi Un pezzo di ferro Dammi l'altro Si metti Anche a cuocere Fa niente Allora Facciamo Altri Un altro Hammer Così Andiamo a Spacciare In tutto Quanto F4 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 Andiamo a spacciare Anche qua Eh Cazzo Cazzo A parte A parte che A parte che Qui c'è un'altra Flint Quattro Quattro Questo Vrebbero bastare Insomma Insomma Non è che Va Dai Dai che Dovano Mangiare Ok Mangiamo Così Non perdiamo fame Allora Andiamo a smeltare Smeltare Prima facciamo Queste Due Così Ci togliamo Il pensiero Ci servirebbe Anche questa Allora Poi Allora Mettiamo Fare Togliamo Questa Magari Non questa Mesh Ma Togliamo La seconda Ok Siccome Ci avremmo Anche fame Quindi Dovremmo Andare A Fare Cosa Manca Ah Sì Quindi Mesh Ok Mesh In mezzo Facciamo La Flint Stiffened Ok E da qui Inizia il nostro Passo Verso il ferro Perché Semplicemente Basta metterlo Di qua E Usiamo questi due Non uso quelli Ci da Il ferro Ragazzi Da qui Inizia Un nuovo mondo Poi Poi Ovviamente Andrà Automatizzato Faremo Uno per Flint Scusate Uno per Grave Uno per Sand E uno per Dust Poi 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 Avanti Oddio Ho fatto Uno così Va bene Ci sta Vabbè Comunque ci siamo capiti Ma Semplicemente Ci serve La Flint Quindi Aggiungiamone Una Quindi faccio Una crafting table Che la mettiamo qua vicino Così non faccio avanti e indietro Crafting station Tiè Di qui Facciamo Questo E sei di questi La stiffened Così Così Invece che due Ne facciamo tre Oh Però se trovi Una Flint Magari Fatelo Ovviamente Ragazzi Bisogna ripetere Sto procedimento Per tutte Le Vabbè Finiamo questo Così faccio Shift A sto destro Ok Quindi Togliamo la Flint Facciamo Flint Stiffened Tac Ne facciamo L'altra Così ne facciamo Ben quattro Una volta Tre Dai Dammi un'altra Ba uscia Si ba uscia Ok Sei Oh Sei ne abbiamo Ne facciamo Ne facciamo Ne facciamo Un'altra Guarda qua Buttiamo un attimo Il coppere Ok Così ne faccio Cinque Una volta Allora Guardate qua Guardate qua Ragazzi Guardate qua Cosa facciamo Mo E mo Andiamo avanti A cinque Da volta Guarda Mo E' molto Più Veloce Ovviamente Poi Bisogna fare Pulverizer Bisogna Triturare Tutta la roba E poi Ovviamente Aspetta che notte Quanti hard Ne abbiamo Guardate qua Tac Sono dieci Ne mangio Un bel po' Ecco Mi sono ucciso Come un morto Mi sono ucciso Come un pirra Vabbè Prima morte Della serie Mi sono menticato Che facevano male Vabbè Comunque La Hardened E' pericolosa Da quanto avete notato Perché non te ne accorgi E ti fa male Comunque Quanta flinta abbiamo Ok Via Undici Mi sei sforzata Ok Questo qui Ora ne facciamo ben sei Vai Eh ma si vola Ragazzi Allora Avevamo sette Facciamo Un Tac Facciamo Questa Facciamo La grave Tac Ragazzi Comunque Ci stiamo progredendo Perché Tre Non me ne ancora Ehm Non me ne ancora Veloce Ok L'ultima Stephen 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 Mesh Ok Facciamo gli altri Vabbè Vabbè Comunque Quanta flinta Quanta flinta Abbiamo un bel po' di seed inutili Quindi io butterei Questo I seed Poi cosa buttiamo I melon seed La dirt Basta poi Pezzi di merda Vabbè Comunque Torniamo a noi Ci serve Della flinta Quanta flinta Mi dai Mo Quattro Quattro Sei Stephen Ed Ok Resquiamo Questa Ok Tac Emo Si fa Si fa Arma Si fa Arma Sempre di più Cinque E fa ancora di più Oh Fatto E che problema c'è Ok Flint Flint E questo qui Emo si fa Arma ancora Con una in più Sono dieci Tre Cinque Otto Quindi Tac E ora Una in più E ora una in più No Vabbè Ripartire Ok Sono Undici Facciamo un bel po' Undici Quattordici Quattordici Ok Uno Uno E due Tac Ok E ora Sono quattordici No Cinque Dieci Tredici Emo Si viaggia Ragazzi Ora E' tutto inizio Tutto buono Perché Tutto si può sviluppare Incredibilmente Allora Facciamo Un'altra Stiffened Per esempio Togliamo Questo Ci metto Questo E almeno Gravel Siamo anche Un po' Pienetti Eh Lo ammetto Comunque Però Stiamo tirando avanti Ok Guarda che Si smuota Fai le altre tre Vaffanculo Una metra Che però Con il ferro Si viaggia Perché Si fa Tanti materiali Facciamo Altre cose E poi Qui Farmo Farmo Perché Cambia Tutto Beh Ovviamente Siamo pieni E dai Mariuscia Ok Come avete visto Non Sbagliato Vabbè Ma Ma Trova Comunque Comunque E mo Facciamo Mo Sistemiamo Tutto Ok Ok No Tiramolo su 4 Facciamo I broken Quattro Confermo Ok Ok Dammi Gli altri Ok Allora Quanta grave L'abbiamo Niente Dovremmo avere Un bel po' Di robette Facciamogli Iron 16 32 E ragazzi Iniziamo a fare Anche la corrente Allora Iniziamo a fare Anche la corrente Perché ci serve Per Poter fare Altre cose Quattro chest Dove Di qui Mettiamo Tutti i broken Ok E volevo fare Oggi Una cosa Tutto il prodotto Della gravel La mettiamo Dentro Sì 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 Perché Comunque Quindi Uno Uno Tac Sette di queste Andiamo a fare Le ultime sette Ovviamente Non ce la faccio Di una Però Non mi interessa Ok E adesso Teniamo anche Quello Fa niente Comunque Torniamo In casa Ok Volevo fare Il furnace Generator O perlomeno Iniziare Che serve La redstone Ragazzi Per fare La redstone Serve La dust Con L'iron Quindi Andiamo A smeltare Semplicemente I broken Dove Sanno I broken Iron Chunk Ma Nel frattempo Volevo andare A prendere Appunto Della Della Legna Perché Intanto Che smelta Intanto Che va A smeltare Facciamo In tutto In tutto Quanto Ok Andiamo A smeltare Andiamo a farci La legna Per farci Le chest Poi faremo Anche Il resto Ma quanto Siamo arrivati Ok Però Noi dovremmo Chiudere Ma Prendiamo la legna E lo faremo Nel prossimo episodio Ragazzi Vi ho già spoilerato Cosa faremo Faremo L'impianto Di Cioè Praticamente Per ora Per ora Ne smeltiamo Così E poi Faremo Un bel Impiantino Per I materiali Che come saprete Serviranno Per Poter Poter Iniziare Purtra sera Faremo Un impianto Vi dico Già Che faremo Un impianto Della Come Gazz Si chiama Impianto Dai sim E faremo Soprattutto I drawer Perché Ci serviranno Per Continuare Con la nostra serie Il coro Che non abbiamo La Allora So che servirebbe La flint Io Magari Mi farò Un bel po' Di sand Infatti Me lo faccio Mo Ok Con il martello Chiedo scusa Per il singhiozzo Comunque Torniamo a noi Dobbiamo Tornare a casa Perché Dovremmo Ritirare Il nostro ferro Ok Allora Vediamo Quanto ne abbiamo fatto Undici Si può bastare Può bastare Perché Semplicemente Prima di chiudere L'episodio Andiamo di qua Facciamo Questo qua Semplicemente Smeltiamo Questo 15 E facciamo Anche da questo Quanta resta Mi dai Se me ne da 4 Facciamo adesso Altrimenti In queste 15 Infatti Me ne ha data Una sola Ah Non so se ce la facciamo Sai Forse si Forse no E io spero Di sì Anzi Mmm Nei dubbi Due Comunque c'è Una percentuale Bassa Di redstone Eh Me ne dati solo due Fa niente Fa niente Ragazzi Perché Con due Siamo già a metà strada Ragazzi Io per questo video Vi saluto Vado a registrare Quell'altro Di seguito A questo Perché domani Ve ne carico Da ora Vi carico Due video al giorno Perché Perché Così posso Avere più tempo Libero Capito Vi ricarico il video Non mi lascio La bocca asciutta E poi Domani mattina Lo faccio uscire Per magari Mezzogiorno Mezzogiorno Luna Non lo so Magari Mezzogiorno Facciamo Mezzogiorno Mi ricordo Dell'appuntamento Vi carico l'episodio D'accordo Io vi saluto Spero che questo video Vi sia piaciuto Vedendomi un like O un bel commento Soprattutto Iscrivetevi al canale Se vi potete portare I nuovi video Perché tra un po' Cercherò di impostare Anche le live Ragazzi Faremo anche le live Di minecraft E tutto quanto Però mi sta sulle balle Che abbiamo trovato Solo due di minecraft 12 ferri Eh Comunque Ci vedremo Nel prossimo episodio Da Casme Tutto Faccio un abbraccio E ciao a tutti